Io invece sono Giovanni Santino, sono un amico entro nel laboratorio, quindi occupo crespenza nell'ambito di stand, quindi non ridete se faccio una figuraccia. Io praticamente sto creando così dal nulla un personaggio più importante, non è vero, creare personaggi nuovi, proprio dal nulla. Che tecnica stai usando? Che tecnica stai usando? Ah, sto usando una tecnica manga.